Ciao gente, vabbè, c'è stata un'opera di convincimento da parte della mia lei per che io vi facessi vedere le cose che ho comprato oggi, anche se non lo reputo poi così importante. Vabbè, bando alle ciance e parliamo di cose più serie. Io per cominciare ho comprato un simpaticissimo libretto per fare i nodi, nodi di tutte le tipologie, dal semplice nodo al nodo artistico, al nodo per giochi di prestigio, è una figata, questo libro è una figata e io sono curiosone, quindi forse ci farò una scultura con i nodi. E poi ho comprato un po' di magliette da Piazza Italia all'Ipercop, a un prezzo stracciatissimo, carine, carine, soprattutto simpatiche. A volgiudizio questo sembra un portatuaggio del pubone. Ci sono tre magliettine, una è questa qui, l'avete vista. Se volete chiamare, ecco il mio telefono. Non rire là dietro. E se proprio ci avete fame, io ci avevo in mente un bel panino, tipo un bel hamburgerone, come dico io. Poi un altro acquisto è stato un paio di scarpe, che io ho comprato soprattutto per comodità, infatti non so, fondamentalmente non so nemmeno la marca, dicono che so delle Skechers. Skechers! Sì, Skechers! Guarda, vi dico che sono tanto comode, sono quelle fitness, tipo le Reebok Fitness, fatte apposta per camminare bene e per fare muovere tutti i muscoli delle gambe del cumulo, insomma, il zucco è questo qui. No, io soprattutto per la questione di comodità, so tanto, 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 tanto. E basta, ve lascio alla vostra, alla vostra solita blogger e io mi ritiro per deliberare.